Ben trovati al TG6, iniziamo il nostro giornale tornando sull'operazione Masterlist condotta dalla squadra mobile dell'Aquila e coordinata dalla procura di Avezzano. Emergono ulteriori dettagli dalle intercettazioni telefoniche che spiegano e svelano il sistema con cui, secondo gli inquirenti, venivano pilotati gli appalti pubblici. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Facciamo come l'altra volta, 15 ditte e 10 sono le nostre. A parlare a telefono sono il vice sindaco di Canistro, Paolo Di Pietro, e l'imprenditore Sergio Giancaterino. L'intercettazione telefonica è datata 2015, quando Di Pietro era vice sindaco, oggi invece siede tra i banchi del Consiglio come consigliere. Per gli investigatori sta tutto qui, una telefonata, una frase che dimostra il sistema illecito utilizzato per controllare gli appalti pubblici. L'ultima operazione della squadra mobile dell'Aquila, Masterlist, scopre le carte e porta ai domiciliari sette persone, tra amministratori pubblici, funzionari e imprenditori. Un sistema collaudato, così è stato definito dalla Procura di Avezzano. Un'indagine che in realtà si è mossa su due filoni separati. Uno è nato nella Procura di Avezzano e si è sviluppato grazie alla denuncia di un imprenditore vittima di un sistema di tangenti, da parte di alcuni politici della Marsica. L'altro è arrivato invece alla Procura Aquilana per competenza ed è nato da intercettazioni telefoniche ed ambientali. Le gare coinvolte nell'inchiesta, lo ricordiamo, sono ben otto. Il comune di Canistro coinvolto con quella relativa alla sistemazione e ampliamento del cimitero, risanamento e consolidamento del cimitero della frazione di Canistro Superiore e la sistemazione del municipio di Canistro. Per quanto riguarda invece Campotosto, nell'Aquilano, gli apparti, come è noto, riguardano la manutenzione dell'area di campeggio Capparella, della struttura di vita centro velico denominata Casa dei Pescatori, l'implementazione di servizi per la realizzazione della rete idrica nella stessa area, la chiusura dell'area di scarica in località Rapperduso. Per quanto riguarda invece l'unione dei comuni delle coline Teatine, di cui è capo file, il comune di Casa Canditella, arrestato il sindaco, lo ricordiamo, l'inchiesta ha indagato i lavori di riasetto territoriale dell'area a rischio idrogeologico della località Colle Grande del comune di San Martino sulla Marrucina. Per quanto riguarda infine il consorzio acquedottistico marzicano e il CAM, la gara per la manutenzione del depuratore di capistrello sotto la lente di ingrandimento. E come avete ascoltato dal servizio precedente, nelle maglie di questa operazione è finito anche il sindaco di Casa Canditella Giuseppe D'Angelo e il suo legale, l'avvocato Antonio Luciani, che anche collega perché è sindaco di Francavilla al Mare, ritiene che il suo assistito possa dimostrare la sua estraneità ai fatti già dall'interrogatorio di garanzie, dunque si dice convinto che ne uscirà pulito. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato questa mattina. I giudici stanno facendo un ottimo lavoro, questa inchiesta era assolutamente un atto dovuto e noi siamo molto contenti che si operi per questi fini per la giustizia. Detto questo, in verità il mio cliente non ha nulla a che vedere né con episodi di corruzione né con episodi di turbativa d'asta, ma questa non vuole essere un'accusa appunto né agli inquirenti né ai magistrati che sicuramente ristabiliranno la verità. In verità ci sono persone che hanno millantato, che hanno fatto credere cose che non erano, si sono presentate offrendo delle contribuzioni del tutto lecite per magari, che ne so, la festa del Paese, per beneficenza, senza collegare minimamente, senza che le persone potessero collegare minimamente queste contribuzioni a episodi di corruzione, perché mai è stato fatto nome di ditta, di appalti o di altro. Nel quadro accusatorio queste persone si sono dimostrate persone molto meno serie di quello che invece facevano ritenere. Bisogna ristabilire questa giustizia perché è evidente che il sindaco Giuseppe D'Angelo è una persona serissima, che non ha mai preso un centesimo, che non ha mai voluto utilizzare fondi di provenienza in dubbia e soprattutto che non ha avuto mai nessun atteggiamento né comportamento che potesse in qualche modo mistificare gare o far vincere questa o quella ditta. Questo ovviamente deve emergere, deve emergere perché quando l'inquirente intercetta, ascolta conversazioni è chiaro che si fa un'idea, un quadro e poi nella rete finisce pure qualche pesce che invece stava nuotando per fatti suoi in maniera del tutto lecita. succede, io sono avvocato, sono esperto di queste cose e quindi so che questo capita. Sono convinto che già dall'interrogatorio lui riuscirà a chiarire la sua posizione a pieno. Ed ora continuiamo con la cronaca giudiziaria ma ci occupiamo del processo Sanitopoli. Nell'appello BIS è caduta l'associazione per delinquere per l'ex governatore della regione Abruzzo Ottaviano del Turco. La Corte di Perugia ha confermato però sostanzialmente l'impianto della cassazione. Come detto, assoluzione solo per il reato associativo. Ricalcolo della pena per i quattro episodi della vecchia concussione da quattro anni e due mesi a tre anni e undici mesi. Per quanto riguarda la difesa dell'ex governatore del Turco, l'avvocato Cagliazza dice che si lavora per chiedere la revisione del processo. Sentiamo i dettagli nel servizio. L'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano del Turco è stato assolto dal reato di associazione per delinquere dalla Corte d'Appello di Perugia al termine del processo sulla cosiddetta Sanitopoli abruzzesi. Il collegio ha rideterminato per lui la condanna in tre anni e undici mesi, mentre nel processo di secondo grado all'Aquila gli erano stati inflitti quattro anni e due mesi. Poi la Cassazione ha annullato quella parte di sentenza inviando gli atti a Perugia come è noto. Dall'accusa di associazione per delinquere sono stati assolti, sempre perché il fatto non sussiste, anche l'ex segretario generale della presidenza dell'Aggiunta regionale Lamberto IV e l'ex capogruppo della Margherita in consiglio regionale Camillo Cesarone. Per l'ex presidente della regione Abruzzo del Turco i giudici hanno anche trasformato l'interdizione dai pubblici uffici da perpetua a cinque anni. Nel dicembre del 2016 la Cassazione aveva confermato la condanna di del Turco per induzione in debita per il presunto scambio di denaro testimoniato dalla famigerata foto della busta di mele, ma aveva annullato con rinvio la condanna d'appello riguardante l'accusa più pesante, appunto quella di associazione per delinquere. Anni e anni di processo quando in realtà delle presunte tangenti di Sanitopoli non si è mai trovato un euro, a parte qualche foto, dicevamo, sfocata, consegnata dall'ex re delle cliniche private Vincenzo Angelini nel 2006 e che avrebbe dovuto in realtà dimostrare la prova delle tangenti. Un processo che ha fatto molto discutere perché appunto le prove non sono state mai trovate. Le mazzette, dicevamo, nessuna traccia di queste, dopo indagini patrimoniali, bancarie e anche rogatori all'estero. Proseguiamo con la pagina politica. Masterplan al palo e fondi europei non spesi. Questa la denuncia del consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, che parla di una regione ferma e di tante incompiute. Sentiamo Paolo Renzetti. Questa legislazione è cominciata ormai 40 mesi fa e è iniziata come Abruzzo facile e veloce. in 48 ore doveva aprire un'azienda ad Ortona che da due anni chiedeva di essere l'apertura. L'azienda è ancora chiusa, sono 40 mesi. Il masterplan è rimasto tutto sulla carta. Ci sembra che di enunciazioni ce ne sono tante, ma di fatti ce ne sono pochi. E questo non lo dice solo Mauro Febbo, non lo dice solo il gruppo di Forza Italia. Mi sembra che gli abruzzesi ogni volta che ci sono dei sondaggi dimostrino che il Presidente torna indietro. Ci sono i sindaci che lo possono testimoniare. Il 15 ottobre scade per i comuni il termine della presentazione del Piano Neve, che poi ricordate quello che è successo lo scorso anno. Mi dite ai sindaci come fanno a fare il Piano Neve se le ditte che lo scorso anno sono intervenute dando un aiuto importante ai comuni, alle province, alla regione. Oggi non hanno ancora ricevuto i fondi. Vogliamo parlare dei fondi comunitari? Il PSR, siamo la terz'ultima regione, abbiamo speso il 5,26% dei 432 milioni di euro. Per il Fondo Sociale bisognava spendere 95 milioni di euro. Abbiamo fatto bandi, non speso, bandi, il che è diverso, per meno di 15 milioni di euro. Sul Fondo dello Sviluppo bisognava fare bandi per 130 milioni di euro. Abbiamo fatto bandi, ma non spesi, per 30 milioni di euro. Credo che questi sono dati reali, dati che possono essere certificati. I dati poi dimostrano che l'Abruzzo regredisce in termini di occupazioni, in termini di aumenti, in termini di disoccupazioni. Il Presidente ha una concezione dell'amministrare diversa rispetto a quelle che sono le procedure. Ecco perché i vari dirigenti sono scappati, ecco perché molti di quelli che si dicevano che dovevano venire non sono venuti. Ci sono delle procedure, ci sono delle regole, ci sono degli accordi di programma che devono essere seguiti. Bruxelles sta contestando la rendicontazione della programmazione 2007 e 2013, quella di nostra competenza, cioè i famosi 700 milioni di euro che noi abbiamo spesi al 100%, perché lui non fa ciò che le regole, le leggi, i regolamenti comunitari dicono. E lui non riesce a capire che bisogna seguire le regole. E dalla Regione è arrivata pronta la risposta di Alberto Balducci che recita la percentuale di avanzamento del masterplan a 14 mesi dall'approvazione della Lilibera con cui il Cipe ha segnato le risorse, pari al 20%, un dato che pone l'Abruzzo ad un più 2% rispetto allo stato di avanzamento programmato dal Governo al 31-12-2017. Dica piuttosto febbo, continua Balducci che fine ha fatto il suo masterplan, quello approvato dalla Giunta Chiodi, che è rimasto lettera morta. Per quanto riguarda i fondi europei, continua sempre la nota di Balducci, alla data odierna sul FESR, dotazione 222 milioni, sono stati pubblicati avvisi per 93,4 milioni e dentro il 31 dicembre verranno messi a bando 33,8 milioni. In merito all'FSE, la cui dotazione è di 142 milioni di euro, sono stati pubblicati avvisi per 32 milioni di euro. Entro il 31 dicembre verranno messi a bando altri 33 milioni. Proseguiamo parlando della nuova Pescara. Il nuovo vertice del comitato, dopo l'esito del referendum, chiede di ripartire con l'iter per l'unione dei comuni di Spoltore e Montesilvano con il capoluogo adriatico. Si torna a parlare della nuova Pescara. Dopo il referendum di qualche tempo fa, l'associazione chiede che ci sia una risposta delle istituzioni al risultato del test referendario. Sì, proprio così. Costituita l'associazione, noi abbiamo avuto degli incontri con la persona individuata in regione per affrontare il problema. Devo dire da subito che la risposta è stata ottima. Ho parlato in più occasioni con Enzo Del Vecchio. Il primo risultato è che è stata chiesta una messa in calendario dell'approvazione del disegno di legge. Quello che noi chiediamo come associazione, premetto che siamo un'associazione della città civile, quindi fatta da tante associazioni che spaziano nei più ampi fronti, associazioni assolutamente che non ha scopo di lucro, quello che noi chiediamo è che tutto l'iter venga ultimato entro il 2018, anche perché sono due anni di ritardo da recuperare, e che poi nel 2019, quando si potrà cominciare con le nuove elezioni, si vada a votare per un solo sindaco, quindi una sola città, quindi non tre città con servizi uniti, ma una sola città, come stabilito dal referendum. Andrete incontro però probabilmente anche a delle resistenze che c'erano state anche quando fu proposto questo referendum. Dunque, noi vogliamo sperare di non incontrare alcuna resistenza, perché il referendum è stato chiarissimo. In tutte e tre le città il sì ha vinto, quindi siamo di fronte a un dato di fatto. I cittadini hanno deciso di unire questa città, quindi le resistenze non possono esserci. Se ci saranno, ne dovremo prendere atto, certamente rimarremo molto delusi. Il pronti via del rapporto con le forze politiche è molto positivo, perché abbiamo riscontrato nel centro-destra, nel centro-sinistra, quindi nella maggioranza e nell'opposizione, la volontà di procedere anche speditamente per l'approvazione di questa legge regionale. Poi dovremmo verificare che alle parole facciano seguito i fatti. È stato presentato ad Ascoli il programma di rilancio dell'area a confine fra Marche ed Abruzzo e che investirà anche 13 comuni della Val Vibrata che ricadono nella provincia di Teramo. Vediamo insieme il servizio di Jacopo Forcella. Primi bandi e avvio delle misure agevolative per l'area di crisi complessa Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno. Ad Ascoli, Invitaglia, Regione Marche e Regione Abruzzo hanno presentato il programma di rilancio dell'area di crisi che prevede una serie di misure ad hoc calate sul territorio a chiusura di un processo di confronto di studio sulle zone interessate. L'area di crisi complessa può contare su una dotazione finanziaria di circa 62 milioni di euro di cui 32 milioni stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico verranno gestiti da Invitaglia, soggetto Inaus che regola le misure agevolative di promenienza ministeriale e le altre risorse verranno garantite dalle due regioni. Tra le province di Ascoli-Piceno e Teramo l'area di crisi complessa Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno conta 53 comuni, in Abruzzo sono 13 tutti ricadenti nella provincia di Teramo. La giornata di oggi scrive una nuova pagina per l'area di crisi, ha commentato l'assessore Dino Pepe presente ad Ascoli in rappresentanza della Giunta regionale. Nel piano di riqualificazione industriale l'Abruzzo metterà 15 milioni di euro, tutte risorse provenienti dai fondi strutturali europei, al pari di come ha fatto la Regione Marche. Proprio sul FESR ci apprestiamo a pubblicare un bando, dopo che la Giunta regionale ha dato il via libera allo stanziamento di 5 milioni di euro. Nell'incontro pubblico con Invitaglia e Regione Marche, infatti, i dirigenti dello sviluppo economico abruzzesi hanno annunciato che tra il 4 e il 6 ottobre prossimi uscirà il bando pubblico che prevede incentivi e agevolazioni in favore di investimenti sull'area di crisi complessa Val Vibrata-Valle del Tronto. Sul piatto dei finanziamenti ci saranno 5 milioni di euro che verranno erogati in regime di de minimis secondo un modello e una formula consolidati che guardano soprattutto alle esigenze di sviluppo della piccola e media impresa regionale. Sempre per l'area di crisi complessa la Regione Abruzzo ha previsto inoltre una misura dell'FSE già operativa che finanzia aggiornamento e riqualificazione delle competenze e prevede intervento di ricollocazione destinati ai disoccupati, compresi i percettori di ammortizzatori sociali. La dotazione finanziaria di quest'ultima monta a 7 milioni e mezzo di euro. Se sul fronte regionale Marche e Abruzzo finanzieranno l'area di crisi complessa con i fondi strutturali europei, sul fronte nazionale Invitaglia si muoverà con i bandi che saranno finanziati dalla legge 181 e con strumenti operativi come i contratti di sviluppo, Smart & Start Italia dedicata alla start-up, nuove imprese a tasso zero e self-employment. Andiamo all'Aquila, un pronto soccorso oncologico finanziato dall'Aquila per la vita grazie a due borse di studio da 22 mila euro. Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto fra ASL e Università e firmato in Comune. Vediamo. Un pronto soccorso psicologico per pazienti oncologici è un'iniziativa della Ollus Aquilana l'Aquila per la vita che consentirà di promuovere la formazione psicologica del personale medico infermieristico afferente alle strutture ospedaliere e territoriali relativamente alla comunicazione con i pazienti nelle varie fasi della malattia per poi inserire lo psicologo nelle strutture ospedaliere e territoriali della ASL e tenerlo a disposizione per interventi relativi e coordinati con l'attività esterna. Il protocollo d'intesa tra la Ollus, l'Aquila per la vita, l'ASL e l'Università è stato sottoscritto oggi in Comune alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi che si commuove ricordando Mauro Zafferi. Le borse di studio infatti sono dedicate a lui, socio storico dell'Aquila per la vita. Voglio dire una cosa alla quale noi teniamo e dell'Aquila per la vita che le due borse di studio che finanzieremo sono dedicate a un nostro socio fondatore che rimane nei nostri cuori, nei cuori di questa città, cioè Mauro Zafferi. Il progetto ha lo scopo di sostenere i malati oncologici prima, durante e dopo la malattia perché il supporto psicologico è un elemento fondamentale anche per sconfiggere il male. La gestione economica del progetto sarà a totale carico dell'Associazione L'Aquila per la vita che metterà a disposizione due psicologi. La selezione dei due psicologi e il conseguente conferimento delle borse di studio avverrà tramite selezione. Il bando sarà pubblicato sul sito dell'Università dell'Aquila. Il compenso complessivo previsto per la borsa di studio è di 22.000 euro per singola borsa di studio. Ancora una volta l'Aquila per la vita a disposizione della città e a due giorni dalla presentazione della fisioterapia che verrà fatta a casa per le donne operate di tumore al seno, un altro tassello importante si aggiunge all'attività della Ollos che ormai fa parte del DNA della città dell'Aquila. Continua questa importantissima collaborazione tra l'Asa e l'Aquila per la vita. Noi siamo veramente orgogliosi e onorati che questo avvenga. Anche oggi l'impatto che avranno questi interventi per noi e per le persone che ne saranno coinvolte saranno particolarmente rilevanti. Quindi io dico solo grazie all'Aquila per la vita. Il loro impegno noi lo apprezziamo molto e li ringraziamo di avere queste sensibilità nei confronti della nostra Asle. Voltiamo pagina adesso. Da aprile a luglio di quest'anno 50 etichette di vini d'Abruzzo hanno oltrepassato la manica alla conquista del mercato britannico grazie all'iniziativa Abruzzo in 50 Wines. L'iniziativa appunto punta a far conoscere la produzione vitivinicola e il territorio regionale a buyers e consumatori del Regno Unito. Vediamo. 50 etichette abruzzesi per far innamorare i palati inglesi. È stata questa la sfida del progetto Abruzzo in 50 Wines organizzato dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo in collaborazione con il Centro Estero delle Camere di Commercio Abruzzesi e cofinanziato dalla Regione Abruzzo con i fondi del PSR Abruzzo 2014-2020 che ha coinvolto da aprile a luglio 40 aziende vitivinicole sia sul territorio britannico che nella nostra regione. Per quattro mesi dunque 50 vini selezionati alla cieca da un panel di esperti degustatori inglesi sono stati protagonisti di numerose iniziative con l'obiettivo di rinnovare l'interesse nei consumatori e nei buyers britannici verso le doc abruzzesi, Montepulciano in primo luogo e poi Trebbiano d'Abruzzo e Cerasuolo. Abbiamo voluto rafforzare e cercare di sviluppare attraverso azioni anche innovative rispetto a quelle che ordinariamente portavamo avanti per cui abbiamo cominciato dando agli stessi, ad un'agenzia inglese la possibilità di selezionare quelli che erano i vini più adatti per quel mercato e poi attraverso cene tematiche, attraverso incontri B2B e B2C in location anche importanti di Londra, anche con due temporali bar abbiamo voluto far apprezzare sempre di più i nostri prodotti. Un milione e mezzo di euro previsto dal piano di sviluppo rurale per quanto riguarda la misura promozione. In particolar modo il mondo del vino si è garantito oltre un milione di euro per promuovere questo prodotto meraviglioso in Italia e nel mondo grazie all'azione del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo si è realizzata questa azione specifica sul mercato della Gran Bretagna il quarto mercato più importante al mondo ovviamente è un mercato in uscita dall'Unione Europea e quindi è stato strategico investire su questo territorio, su questa nazione. I dati ci danno ragione, negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento delle esportazioni importanti il vino continua a crescere, bisogna puntare molto sulla certificazione e quindi sui mercati ma soprattutto sui prodotti DOC e DOCG. A Pescara domani si terrà la notte dei ricercatori che vedranno lo svolgimento di numerose iniziative di carattere scientifico aperte a tutti presso l'Aurum e l'Icranet di Piazza della Repubblica. Il 29 settembre Pescara ospiterà questa manifestazione la notte dei ricercatori. Professor Ruffini, vogliamo spiegare di cosa si tratta? Ci sono due attività, uno presso l'Icranet che celebriamo il primo Carlo Pace Award che viene dato a degli studenti che hanno collaborato con l'Icranet diffondendo la cultura che abbiamo sviluppato scientificamente nei licei di Pescara. Questo Carlo Pace Award celebra il fatto che Carlo Pace è stato fantastico nel promuovere tante attività nella città di Pescara ma anche l'istituzione dell'Icranet. Quindi questo award viene dedicato a una bravissima studentessa che adesso è in Inghilterra e ai due professori che hanno mediato la presenza dell'Icranet nei licei. E faremo una mostra a presentare anche una nuova attività di tre volumi uno su Fermi e l'astrofisica, uno su Fang Ligie e uno su Marcel Grossman. Questi tre volumi saranno pubblicati in inglese, nelle varie lingue ma anche pubblicati in italiano e saranno annunciati qua la mattina del venerdì. Notte dei ricercatori, iniziativa di un'importanza straordinaria con un contatto diretto per far conoscere meglio e nel dettaglio il ruolo di persone normali ma nel loro lavoro straordinari rispetto alla ricerca. E questo credo che sia essenziale soprattutto per i giovani, per gli studenti e non solo. Mettiamo in contatto i ricercatori che hanno l'opportunità di presentare i risultati delle loro ricerche e metterli a disposizione del territorio, metterli a disposizione delle famiglie, dei giovani, dei bimbi che sono molto interessati. Io ho partecipato anche alle precedenti giornate dei ricercatori e ho visto un grandissimo interesse anche da parte dei bimbi. Ci sono ricercatori che attivano laboratori, che appunto hanno la possibilità di far capire l'importanza del lavoro che svolgono. Ed ora passiamo allo sport, iniziamo dal pescare, andiamo ad ascoltare le parole di Zeman che è stato intercettato a Coverciano. L'allenatore del Pescara tra i vari argomenti ha parlato anche del momento di Biancazzurri dopo gli ultimi quattro pareggi consecutivi. Sentiamo. Quanto manca al Pescara per fare il salto di qualità? Ancora questi sbandamenti, queste amnesie continue e difensive? Noi siamo squadra giovane e cerchiamo di imparare. Non è facile, in questi momenti non giochiamo nel calcio che ci piacerebbe, ma stiamo lavorando per quello. Tanti sottolineano che la grande novità è rappresentata dai pareggi. Vabbè sono pareggi, anche se sono pareggi strani, nel senso che abbiamo pareggiato da 3 a 0, da 2 a 0, solo l'ultimo è stato 0 a 0, che è strano di solito perché le squadre di solito giocano per cercare di fare i gol. Continuiamo a parlare del Pescara. L'esterno sudamericano Baez torna sui pareggi che in questo momento stanno caratterizzando il percorso in campionato del Delfino difficile, dice l'ex Fiorentina, a spiegare cosa accade. Ascoltiamolo. Il ruolo degli esterni d'attacco è fondamentale e cruciale negli schemi di Zeeman. A che punto sei nell'assimilare questi schemi? A me mi piace tanto giocare lì all'esterno, tanto a destra come a sinistra. Lui dà tanta importanza a questa posizione. Per me è troppo importante perché sempre sta in gioco, sempre partecipi di tutte le giocate. Penso che è troppo importante stare lì e stare bene. Guarda, io come miei compagni penso che tutti possiamo dare tanto alla squadra, ma io personalmente penso che sono uno veloce, che ha tecnica e posso fare bene gli avanti. Questo pareggio a Cremona è molto diverso da quelli precedenti. Avete un po' una sindrome del pareggio? Perché le rimonte subite possono un po' restarvi nella testa, anche se poi Cremona è stato un pareggio diverso rispetto agli altri. Sì, sì. Le partite scorse penso che è difficile guardare la partita e dire cosa è successo, perché neanche noi sappiamo cosa succede quando siamo lì avanti e prendiamo quei gol. Ma qualcosa sicuro dobbiamo cambiare e stiamo lavorando per quello. E dopo il pareggio ora a Cremona penso che non serve, ma neanche così brutto il risultato, che magari possiamo dare importanza in queste partite precedenti. Questa è l'intervista di Andrea Costantini. Chiudiamo la pagina dedicata al Pescara con le designazioni arbitrali. Sarà Daniele Minelli di Varese il direttore di gara del match di sabato prossimo tra Carpi e Pescara. Il fischietto Lombardo sarà coagliuato dagli assistenti Mauro Galetto di Rovigo e Cristian Rossi di La Spezia. Quarto ufficiale Riccardo Anna Loro di Collegno. Scendiamo di categoria in Serie C per parlare del Teramo. Dopo la sconfitta sul campo del Pordenone, il difensore Nebil Caidi chiama a raccolta il pubblico per la delicata sfida di domenica contro la fermana dell'ex Marco Sanzovini e Jacopo Forcella. Nebil Caidi, Pordenone è veramente indigesta. L'anno scorso 3-1, quest'anno 4-2, insomma una trasferta è proprio al Teramo, non va giù. Sì, penso che Pordenone sia indigesta a tante squadre in questo momento perché comunque io come diceva il tuo collega sono rimasto veramente ben impressionato da quella squadra anche se comunque noi secondo me non abbiamo approcciato bene a questa gara eravamo un po' titubanti e abbiamo sbagliato tantissimo però devo dire che è un campo che purtroppo si fa fatica perché loro sono abituati, è un campo stretto e quindi molto diverso da come siamo abituati noi. Non è un alibi però ecco voglio dire abbiamo affrontato secondo me una squadra attrezzata e mentalmente forse un gradino sopra di noi in questo momento. Anche perché domenica a Teramo arriva una squadra che ha appena fatto 5 gol con Lupoli che ha fatto una tripletta arriva Sanzovini, insomma il reparto avanzato della fermana fa paura in questo momento. Sì sì è una squadra che in questo momento ha trovato una quadratura importante, il mister ci ha già accennato due o tre cose e quindi ci sarà del bel lavoro per la difesa ecco quindi però ecco sono convinto che non sono stati comunque errori di reparto, ci sono stati più magari ingenuità individuali così che quindi li mando stando un po' più attenti, più concentrati si può sicuramente fare meglio e me lo auguro perché comunque da difensore quale sono non mi piace ecco questo. Fermana e Feralpi il Bonolis può fare la differenza in che modo? Ma spero nel modo come Ravenna ecco perché con Ravenna è stato bellissimo, mi è piaciuto tanto il pubblico di domenica scorsa quindi spero che ci sia la stessa gente o anche qualcosa in più che ci dia una mano perché con Ravenna sinceramente sono rimasto ben impressionato. E tutto anche per la seconda edizione del TG6, prossimo appuntamento alle ore 23, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.